Nardò domenica 23 luglio Radio Norpa Battiti Live Nel cuore della musica The Journalisti Takagi e Ketra Bianca Azei Briga Michele Bravi Federica Paola Tucci Ricky Jake La Furia Gigi D'Alessio Baby K Benji e Fede Domenica 23 luglio In diretta da Nardò Lecce Piazza Diaz Ore 21 Battiti Live Nel cuore della musica